Tele 2 Ruti, una televisione monolocale, improvvisamente un manifesto. Chi ha memoria degli anni 70 rammenta i nomi di Franca Salerno e di Maria Pia Vianale. Militanti comunisti e rivoluzionari, recita il manifesto, della Vianale rammentiamo il pugno chiuso dei NAP. È come se un messaggio che ci giungesse dal passato, da tempi remoti. Tele 2 Ruti, una televisione monolocale, necrologi della memoria. Grazie.